Il suo mentore è Chico Postiglione, uno che nel Gran Turismo ha vinto tutto, ma arrivare a conquistare due titoli tricolore in una sola stagione e a soli 17 anni è una protezza che solo chi ha un grande talento può permettersi. Rocco Mazzola è l'enfant prodigi dell'automobilismo italico, potentino doc e nipote di quell'altro Rocco Mazzola, indimenticato campionissimo della boxe degli anni 60. Il driver Lucano si era già distinto nel 2021 con la vittoria da Rucchi nel campionato italiano sport prototipi, ma è nel 2022 magico che Mazzola conferma le sue doti laureandosi campione italiano sia nella classifica Endurance che in quella sprint del campionato italiano Gran Turismo tra i più difficili e competitivi d'Europa. Per i grandiosi risultati il giovane driver è stato premiato dall'amministrazione comunale di Potenza. Io faccio il mio alla fine, diciamo che i risultati sono arrivati, i piccoli risultati, cercheremo di comunque portare avanti la città di Potenza così come il nome e il cognome di mio nonno che comunque a Potenza era molto conosciuto. È nato grazie a papà, mi ha portato a vedere una gara di Vito, nel 2013 lui correa con la Porsche e da lì mi sono innamorato, il rombo dei motori, poi quando è sceso dal podio mi ricordo che aveva vinto, mi regalò il cappellino e da lì chiese a papà di correre col kart, iniziare col kart. Il mio primo kart era il kart di Luigi, il figlio di Chico e da lì poi è nato questo amore, ora è inseparabile. Una consacrazione per un ragazzo che con i suoi 17 anni ha stabilito un vero e proprio record. Mai un pilota così giovane aveva ottenuto due titoli tricolore nella stessa stagione. Un talento cristallino che l'esperto coach Chico Postiglione sta provando a modellare a sua immagine e somiglianza. Per quanto riguarda il discorso in pista è molto simile a me perché non sbaglia mai, non fa errori, non fa casino in pista, è molto concentrato, è molto attento a quello che fa e quindi questo me lo rivedo molto in me perché in questi due anni devo dire non ha mai commesso un errore, non ha mai fatto un incidente considerando che comunque nel 2022 a debuttare su una Ferrari 488 con 670 cavalli, insomma penso che non è da tutti. Nel corso della prossima stagione agonistica Mazzola difenderà i titoli conquistati a bordo della Ferrari 488 del team Easy Race con una sorpresa. Abbiamo già un piano con Vito, nel 2023 uscirà l'ufficializzazione a gennaio, correremo sempre con la Ferrari però GT3 quindi la classe regina sarà molto più impegnativa perché correremo con gente molto più esperta però ce la metteremo tutta e penso che i risultati arriveranno con Luigi Colucci e il mio compagno.